Ciao ragazzi ben ritrovati sul mio canale e ben ritrovati soprattutto su Life is Strange Before the Storm Andiamo a riprendere la partita e andiamo a vedere come stanno Chloe e Rachel Il papà di Chloe perché è qua La mamma Non sto capendo perché siamo qui in questo sogno Non ci siamo mai... E' tu non è... E' tu... E' tu... E' tu potrei dire che è stato io Ok, tu vieni E' tu non ti vieni a vedere E' tu certo? Scusate, mi sembro una scena di Aldo Giovanni e Giacomo Scusate, è serissima in realtà Siamo arrivati a Pizzocalabro Scusate What's wrong? Don't you see anything? Robot Fine, it's the spark plug No, that's not it. I just had that replaced Isn't improv supposed to be all about Yes and Yes and what? Dad, stop None of this is real You're not real Rachel's family isn't real This whole thing It's all just theater Well You know what William Shakespeare said Something about the whole world being a stage So Might as well act the fuck out of it Ciao ragazzi, perché siamo a teatro? Cioè, siamo in un sogno Io mi tiro giù le maniche Ho freddo Non lo so ragazzi Qui ci stanno I genitori di Rachel Wow That's pretty dark, Dad Dad Relax, sweetie It's all pretend, right? Right Just a bit of stage magic Floodlights Sound effects Chloe Look at me Look at me, sweetheart It's going to be okay Sempre una tragedia ragazzi Questo gioco E Chloe continua a rivivere la morte di suo padre Questa poveretta, ragazzi Sono undici puntate che continua appunto a rivivere la morte di suo padre Ora che facciamo? Wait What the shit? Has someone been going through my room? Doesn't seem like mom She wouldn't leave a mess like this Wait David? Nah, David Motherfucker Whatever I don't have time for this shit I've got to help Rachel Okay I saw Sarah leaving Frank's RV He might know how to find her Plus He likes me And he owes me one from yesterday I can do this Forza e coraggio Okay Come on, dude Dai, ciccia Rispondi Hey, Frank Frank I was actually going to cash in for a favor instead What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman who was in your RV yesterday Frank? What the hell for? Something important Can you help? D I would Really appreciate it I'm your favorite client Remember? Me and the junkyard in two hours Sweet Thanks, man You were real In effetti La madre di Rachel Era uscita dal camper Di Frank E non si era capito Bene il motivo Penso che lo capiremo Presto Quindi dobbiamo andare Alla discarica Un'altra volta Alla discarica Ok Penso che Tu possa fare Anche la doccia Rachel Ci si becca Alla discarica Molto bene Ok Vediamo se possiamo fare una doccia Magari cambiarci Che te frega Vittoria Vittoria Ci sta scrivendo Ok Vaffanculo anche a te Vittoria Grazie Bene Noi dovremmo andare Nel bagno Eccoci E non lo so L'avrà lavato Mamma Sì Date una calmata Perché non mi sembra Di agitarsi Che agitarsi Sia Una buona cosa Per un asciugamano Ragazzi Che bello ragazzi La tinta Azzurra Per i capelli Noi in effetti Abbiamo conosciuto Chloe Che aveva Aveva i capelli Celesti Chissà Se possiamo farci Anche I capelli Niente Le vuole Vuole farsi Solo la doccia Ok Fatti una doccia Io volevo Colorarmi I miei capelli Ragazzi Fantastica Fantastica Allora Allora Illuminati Omino Omino hot dog Cerva punk Indietro Indietro Io vorrei La cerva punk Assolutamente Anche perché il cervo Ha un significato In questo gioco Fantastica Fantastica E' fantastica E' fantastica Ultragnoppissima Ok Andiamo a cercare Gli attrezzi Per sistemare Il pick up Ok Scendiamo Andiamo a vedere In garage E' nessuna Dai ti tocca E' nessuna Tu freddi tutto il tempo. Voglio che tu abbia un'escalza a casa. Sei un'escalante, David Madsen. La mamma sembra abbastanza felice. Ok, dopo aver visto questa bella scenetta... Non sembra casa mia. Scusa, dimenticatelo. E non preoccuparti. Vale, però. Ok, David, dimmi. Che c'è? Cosa? 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 Va bene. Non è molto soddisfatto, eh? Molto convinto... di ciò che sta dicendo. Ehm... Ha frugato in camera mia. In effetti abbiamo la camera che... da qualcuno è stata frugata. Si dice, la camera è stata frugata. Non lo so. Comunque hanno frugato in camera, in effetti. E io glielo direi. Cosa? 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 commuoversi quindi david ci sta proprio proponendo di tenere la sua foto e noi possiamo accettare l'offerta di david o rifiutarla io accetterei david si sembrava molto vecchio e questo ragazzo che si sembrava vicino grazie david oh chloe mamma sono proprio orgogliata di voi mamma i really need to go be careful out there chloe i love you sweetheart all right all right che dobbiamo andare in guerra ed eccoci ragazzi stiamo andando alla discarica solito treno che passa quest'ora sono molto contenta che che chloe abbia abbia parlato con david e con la sua mamma eccola lì sta cercando di sistemare il suo pick up il suo quello che ha trovato su collabora non chiedere aiuto a me chloe che non ci capisco una cippa in motori eh ecco appunto io ragazzi a questo punto mi fermerei mi fermerei e vi saluterei altrimenti questa puntata dura un attimino troppo nella prossima vedremo di riuscire a far partire questo benedetto pick up e andare a a trovare frank frank che ci deve parlare cioè gli abbiamo chiesto una mano in realtà per trovare la mamma di rachel perfetto per il momento è tutto ragazzi da melix game su life is strange before the storm ciao